Si rafforza, nonostante un quadro economico ancora incerto, la posizione di Banca di Cherasco. Il bilancio 2010 conferma la crescita dell'istituto e l'impegno per famiglie e impresa. I dati parlano chiaro, accanto a una crescita del 2,7% cresce anche la raccolta che sale del 2,3%. L'utile netto ha oltre 3 milioni di euro con oltre 7 mila socci. Infine il trend di crescita ha riguardato anche il numero delle filiali arrivate, dice il direttore generale Giovanni Bottero. A 28 con le recenti aperture di Moncalieri e Barazze previste per il 2011, altre 3 nuove agenzie a Savigliano, Celle Ligure ed Albissosa.